Le voglio dire al sindaco se mi potrei dare un aiuto anche per l'appartamento. Ha lanciato il suo appello ieri al TG8 Melani, la mamma di Gelfry Guzman, il cuoco dominicano di 23 anni, residente a Chieti, che ha rischiato di morire dopo essere stato raggiunto da 5 colpi di pistola lo scorso 10 aprile nel locale in cui lavorava, a Pescara. Il giovane dopo lunghi mesi trascorsi tra ospedale e riabilitazione a Natale dovrebbe tornare a casa. C'è però il problema che Gelfry arriverà su una sedia a rotelle e in casa, piuttosto piccola, ci sono barriere architettoniche difficili da superare. Da qui la richiesta d'aiuto al primo cittadino di Chieti. Mi sento di dire che se risiedono in un appartamento di proprietà privata possono immediatamente fare domanda per emergenza abitativa. A questo proposito voglio dire, affermare e ricordare che la nostra amministrazione ha intercettato fondi per 5 milioni di euro dal PNRR per la ristrutturazione delle case comunali che andranno in vigore e quindi avremo dei risultati tangibili entro i primi mesi del 2023. Nel caso in cui poi la famiglia di Gelfry volesse accedere agli alloggi popolari, il sindaco ha voluto precisare che le case di proprietà dell'ATER vengono assegnate nel rispetto di una graduatoria stilata da un'apposita commissione. Una volta fatta la graduatoria, una commissione comunale chiama a scalare le persone che sono rientrate in questa graduatoria per la consegna delle chiavi. Questo lo dico per chiarezza affinché non si reiteri a pensare che sia il sindaco ad assegnare le case popolari.